signori signori ve le ricordate la favola del gatto con gli stivali ve la ricordavate eccola qua abbiamo la versione futuristica della della favola del gatto con gli stivali ciao ragazza vigilata e fate le gattine così pronte che fai attenzione abbiamo un rigurgito perché la stai perdendo la stai perdendo attenzione che fai non ti giri stai bene tutto a posto stai facendo liscia qui ma la ma sete in tre ecco ce l'abbiamo parliamo con te dai un attimino questa ragazza deve ancora bere tu invece come ti chiami paola cosa festeggiate ragazza il mio compleanno è quello di un altro ragazzo infatti l'ho visto subito che aveva la faccia da festeggiosa e cosa festeggi 26 anni 26 no non ci credo 26 anni ragazze veramente no ma non sembra assolutamente dai meno male ci spieghi la scelta del tuo look di stasera così da festeggiata da festeggiata questo è il look da festeggiata devi me la riprendi mi fai anzi una breve sfilata da festeggiata me la fai tipo che vai lì torni indietro ecco guardate qua per la moda convento gennaio 2018 il look da festeggiata eccola ragazzi fate eccola qua ecco vieni con me vieni con me vieni con me vieni dalle tue amiche eccola qua ciao tu sei l'altra festeggiata no sembra che il look da festeggiata no non sono la festeggiata sono un'amica ecco qua mi fa anche te la sfilata no stai ferma così tu all'inizio del video sei stata la nostra gattina con gli stivali lo sai va bene anche loro li hanno eh sì però stanno andando via venite ragazza venite che dovete farmi le gattine vieni vieni come ti chiami te tenis da dove venite da sarezzo da sarezzo quindi a sarezzo si si gira così no è la moda è la moda di sarezzo questa c'è la neve alta a sarezzo più o meno no siete tutte carinissime comunque cioè c'è aria buona sarebbe grazie sì sono tutte bene molto belle ecco ma questo è tutto il gruppo di amici sì no sto organizzando i pullman turistici io per sarezzo adesso giusto ok allora vuoi fare gli auguri alla tua amica che non ci sente questo momento ma non è solo lei la festeggiata c'è anche un ragazzo e l'ho persa l'ho persa ha gli stivali anche lei ha un ragazzo con gli stivali l'importante è che abbia gli stivali anche lui eh compie 30 anni 30 anni perfetto andiamo a cercare il festeggiato come si chiama Alberto ok adesso andiamo a salutarlo mentre te mi saluti il pubblico a casa appena si gira quello con la telecamera eccolo qua signore e signori stasera che non siete venuti al commento di Lonato guardate cosa mi siete persi quindi da sabato prossimo qua al commento ciao mi fai la gattina assieme ciao così mi fai la massage과� Pumpkin ad sapere dalla somma no 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 Grazie a tutti.